Come tutti noi sappiamo l'importanza dei prodotti autofrutticoli in registrazione è dovuta al fatto che con loro proprietà garantiscono nella nostra dieta molte vitamine, fibre e un alto grado di digeribilità. Sono un fattore di variabilità per l'alimentazione e di modificio uso nelle nostre cucine, sono nelle scuole fondamentali per la crescita dei bambini e per la loro educazione alimentare. Negli ospedali sono inoltre una fonte inesauribile di materie prime necessarie per la più opportuna dieta dei degenti. Inoltre bisogna sottolineare che per la ristorazione collettiva sono molto importanti anche perché l'incidenza dei costi sugli acquisti di materie prime è di circa del 20%. Da dove è nata la necessità di un osservatorio? Il settore autofrutticolo ha una serie di variabili dovuti alla stagionalità, ai diversi luoghi di origine del prodotto e di acquisto che causano oscillamento di prezzi in alcuni casi prevedibili, in altri meno. Di contro la ristorazione collettiva paltata ha delle necessità che la portano a dover garantire materie prime di qualità ad un costo contenuto e preventivabile. Da queste premesse nasce la volontà di realizzare uno studio di cui Conor si è fatto promotore della dinamica dei prezzi e l'ingrosso dei principali prodotti ortofrutticoli del settore della ristorazione. Quali sono stati gli obiettivi di partenza per realizzare il calendario della stagionalità economica? La determinazione dei principali prodotti ortofrutticoli, il cui peso è il 90% sul totale dei volumi venduti dalle società all'ingrosso. La determinazione per singolo prodotto della serie continua di prezzi medi di vendita all'ingrosso. E la rappresentazione grafica per singolo prodotto a livello settimanale mensile dei prezzi medi registrati. Con la collaborazione di Conor e del professor Vannini, UBM ha definito le linee guida. L'arco temporale su base quinquennale su cui reperire i dati. La fonte infomercati che effettua giornalmente la registrazione di tutti i prodotti ortofrutticoli in tutti i mercati. e abbiamo deciso su quali mercati reperire i dati dei mercuriali da elaborare. Abbiamo preso in considerazione Bologna, Firenze, Milano, Padova, Roma e Torino. Per determinare, per riprodurre graficamente un andamento attendibile e confrontabile fra i diversi mercati, abbiamo individuato caratteristiche omogenee per prodotto in termini di specie, varietà, calibro, presentazione, categoria e assenza di marchi. Come potete vedere nella prossima slide, sono elencati diversi prodotti presi in esame. Sono 30, 12 per quanto riguarda il segmento delle orticole e 18 per quanto riguarda i prodotti frutticoli.